Dominante invece secondaria del terzo grado, terzo grado sempre dalla scala maggiore, modo ionico appunto, scala maggiore, scala diatonica, composta da sette note, il terzo grado è il Mi minore. Come dare risalto al Mi minore nella scala di Do maggiore? Appunto, perché il Mi minore è un accordo che se lo risalti dà un senso di tristezza, di tristezza, soprattutto questo lo puoi ottenere grazie proprio alla dominante secondaria, nel sistema classico, proprio tipico, allora c'è il primo grado che ha la funzione di tonica ed è quel grado che in pratica è il centro di gravità, è il pianeta su cui girano tutti gli altri, su cui tutti gli altri sono minore importanza, tutti possiedono in qualche modo una tensione che deve essere risolta per tornare all'accordo principale che è appunto il Do maggiore, che è il primo grado, cioè la tonica. Come si fa a dare risalto al Mi minore? Come ti ho spiegato nel video, appunto, precedente, riguardante il secondo grado, devi fare la dominante secondaria dell'accordo di Mi, quindi andare nel modo minore di Mi, per dire può essere la scala non Eolia, perché l'Eolia non usa il settimo grado maggiore, ma è minore, quindi potrebbe essere o la scala minore melodica, ma penso che sia soprattutto la scala minore armonica, appunto, che ha la sensibile modificata in modo tale da poter usare il quinto grado maggiore. Quindi Si settima fa il primo grado tonico, poi passa il Si settima, e il Si settima è la dominante secondaria, cioè non è la dominante principale, non viene dalla tonalità di Do, non è il Sol settima, ma il Si settima è la tonalità di Mi minore, e in questo modo ottieni risalto nel terzo grado, che appunto è il Mi minore.